Be safe, be rock. Ciao, bentornato qui a B-side dove con la musica usiamo la musica come grande aneddoto di quelli che sono gli aspetti della vita, della vita sul lavoro, della sicurezza, ma non solo proprio della gestione. Non solo, ormai lo sapete, parliamo attraverso la musica, gli artisti, la musica, ma tante volte abbiamo avuto dei grandi sportivi, dei grandi sportivi che non solo ci hanno fatto sognare con le loro gesta, in particolar modo l'ospite di oggi, insomma appena vi dirò il nome capirete di cosa sto parlando, ma naturalmente lavorando in un team per arrivare alla vittoria ci sono tutte quelle dinamiche che poi sono caratteristiche anche nel mondo del lavoro e quindi come lo sport può essere metafora della vita in generale, beh non sono certo io a raccontarvelo. L'ospite di oggi la conosciamo tutti quanti, sono contentissima di averla qui con noi, quindi stavo parlando di una grande pallavolista, campionista in tutte o anche a livello di nazionale, oggi speaker, proprio portando la sua esperienza delle aziende, sto parlando di Maurizia Cacciatori. Ciao a tutti, ciao Stefano, un piacere essere con te oggi. Beh il piacere è reciproco, in versione estiva, più soprattutto te, io mi accingo, perché il periodo comunque, insomma, ce lo meritiamo, dopo un annetto tribolante, anche te so che giri veramente a destra e sinistra. Sì, io sono sempre sulla 1, sono la regina della 1 praticamente, perché viaggio tanto e preferisco sempre utilizzare l'auto perché con i treni spesso ci sono problemi di ritardi e tutto, avendo dei bambini piccoli non mi posso permettere di arrivare tanto, quindi mi sento in movimento. Primi giravi per i campi di pallavolo d'Italia, oggi il tuo campo sono le aziende. Sì, dici bene Stefano, perché io porto la mia esperienza negli ambiti aziendali, perché penso che ci siano tantissimi nessi tra un'azienda e un team. Ci sono spogliatori, ci sono le persone, ci sono gli obiettivi, ci sono i cambiamenti, ci sono il gestire i momenti di difficoltà, il saper gestire il successo, i momenti di crisi. Quindi ci sono tante cose molto simili e quindi lo faccio con grande entusiasmo. È come rimettermi addosso a quella maglia che è stata per tanti anni la mia, quella della nazionale. E sicuramente posso immaginare attraverso i tuoi racconti, insomma, le persone, fra l'altro insomma quelle che ti hanno conosciuto anche in veste sportiva, insomma immagino che dentro di loro nasca. Io non credo nei motivatori, non so cosa ne pensi te, ma il fatto che attraverso i racconti e le storie si possa mettere in condizione le persone di trovare proprie motivazioni, sì, e penso che sia il tuo caso. Dici proprio bene, io non è che non credo nei motivatori, però io credo che se una persona ha voglia di raggiungere un obiettivo lo raggiunge da solo, non deve essere motivata per raggiungere l'obiettivo perché significa che non ci crede. Quindi a volte all'inizio di questa nuova carriera, perché ormai è più di dieci anni che entro nelle aziende italiane, ma anche non, mi sono chiesta ma cosa può raccontare una pallavolista, no? Mi sono sempre sentita un po' così. Poi continuo a dire che lo sport è vero che è una metafora di lusso della vita reale perché per tanti anni noi siamo stati ovattati, no? In un mondo dove tutto era organizzato dagli altri, noi dovevamo solo pensare a vincere le partite, essere performanti. Però lo sport è un grandissimo banco di scuola perché ti allena la capacità di cambiare in continuazione, la capacità di mettersi in gioco, di prendersi responsabilità anche quando vorresti fuggire, di sapere onorare la maglia che indossi, no? Che significa che da ogni giorno devi essere un buon esempio per gli altri. E quindi si toccano le varie tematiche della leadership, del team, del coraggio, ecco, della resilienza, del saper gestire lo stress, perché poi i team non sono tutti meravigliosi, dove tutti si amano e si vogliono bene. Sono team complicati, team difficili, cioè è la vita normale, ecco. Quindi io porto questa esperienza all'interno delle aziende, senza dover motivare qualcuno, ma con grande tranquillità e serenità. E penso che sia nello sport e nel lavoro, anche quando il team vive una fase felice, serena, beh, appoggiarsi, addormentarsi sugli allori non conviene mai, perché poi basta veramente poco per inquinare, no? Quindi l'impegno deve essere costante. Mi viene in mente una domanda. Sicuramente, appunto, le esperienze da te in azienda fanno riflettere, fanno sognare anche le persone di un mondo che vorrebbero. Secondo te, questa è una domanda che mi spiego, che mi faccio stesso, spesso, che mi sto intrecciando, mi faccio spesso in ogni tipo di formazione. L'esperienza formativa, molte volte, è veramente bella, memorabile. Poi però torniamo alla vita di tutti i giorni. Secondo te, cosa dovrebbe mettere in pratica una persona che assorbe da un'esperienza vissuta con te per poi replicarla nel quotidiano, nel suo ruolo che ha all'interno dell'azienda? Magari stiamo parlando di un leader, di un manager. Ma, guarda, io penso sempre che nei miei aneddoti, nelle mie storie, nel mio percorso come capitana nazionale, per esempio, tante persone si possono ritrovare, anzi, quasi tutte, perché la mia carriera è stata una carriera meravigliosa, però è stata una carriera di rinunce, di sacrifici, di momenti in cui le cose non andavano come mi sarei aspettata, di grandi cambiamenti, perché io nasco come schiacciatrice, ad esempio, e poi ho avuto un'allenatore che mi ha detto guarda, non diventerai tanto alta, quindi devi cambiare. E per me fare la palleggiatrice era qualcosa di assurdo, palleggiare avanti e indietro era una cosa noiosissima, perché ho pensato, no, no, io o faccio la schiacciatrice o mi ritorno a casa. Invece ho avuto anche la capacità, nonostante fossi così giovane, perché poi quando si è molto giovani si ha poca esperienza, no, e invece ho avuto la capacità di capire che anche quel cambiamento poteva essere un'ottima opportunità di crescita. Mi sono messa davanti al muro, ho iniziato a palleggiare, a palleggiare, a palleggiare, e magari se non avessi ascoltato il mio allenatore non sarei diventata la palleggiatrice della nazionale. Quindi quello che porto io sono aneddoti, storie, dei momenti che ognuno di noi ha trovato, ha vissuto, e quindi magari ci può riflettere e può essere un buon esempio anche per gli altri. Infatti quello che mi ha detto mi fa pensare che tante volte noi abbiamo delle attitudini o dei potenziali che però noi stessi non li vediamo perché appunto vogliamo fare la schiacciatrice, mentre un osservatore ovviamente con un occhio esperto può vedere un qualche cosa. Il cambiare, sappiamo, fa parte di tutte le logiche della zona di comfort, non è sempre facilissimo. Ecco, mettiamola così. No, anche perché il cambiamento dice proprio la parola. Cambiare la mente è più facile rimanere, perché abbiamo tutto sotto controllo, conosciamo tutta la perfezione. E invece lo sport ti porta a cambiare in continuazione. Se pensi poi alla palla a volo, è uno sport dove la palla è in alto. Quindi non è che hai tanto tempo per decidere, no, non voglio cambiare, no, non voglio cambiare, perché cade la palla e il punto va agli avversari. Quindi anche la velocità di cambiare. Di pensiero e poi di azione, naturalmente. Il grande leader nelle squadre in cui hai giocato, il tema che ricorre spesso, i leader sentono più il peso della responsabilità o l'onore della responsabilità? Come l'hai vissuta? Questa è una bella domanda. Il leader non si pone tante domande, secondo me, il vero leader. Il leader costruisce, crea anche emozioni, dà un senso e non ha nessun interesse di essere riconosciuto. Quelli che pensano che devono essere riconosciuti non sono leader, secondo me. Esatto, esatto. Anche perché poi diventi guida quando le persone riconoscono in te una guida, non perché di certo la imponi. Ecco, tendenzialmente il leader è portato a dialogare, ad ascoltare e in qualche modo appunto essere esempio per questo poi guida. Ci sono dei momenti, visto che il team viene ascoltato e guidato, in cui il leader magari si sente solo, perché a sua volta magari ha bisogno di essere ascoltato. E quindi lì magari il peso della responsabilità, perché poi alla fine siamo esseri umani. Io dico sempre, il leader poi ha la maglietta di Superman. No, no, ma infatti la forza del leader ha anche la capacità di chiedere aiuto nei momenti di difficoltà. Io ero una leader molto atipica, nel senso che facevo confusione nello spogliatoio. A volte, quando ero molto giovane, ho detto anche uno sciopero, perché faceva tanto caldo e noi volevamo andare al mare. Sì che ho detto alle mie compagnie, ma perché dobbiamo allenarci? Andiamo tutti al mare. E mi ricordo l'allenatore e si arrabbiare in una maniera folle. Io però quando mi sentivo sotto grande stress, o comunque in momenti magari in cui non siamo al massimo, ho sempre chiesto aiuto alle mie compagne. Ma sai perché? Perché secondo me è giusto. Perché in un team non è che c'è il leader che ha un gradino sopra. Il leader ha forse più idee, ha forse più empatia, ha forse più capacità di trascinare, ma allo stesso tempo senza le persone non è nulla. Quindi anche il valore delle persone, le persone che aiutano un leader, diventano anche loro dei leader. Ognuno ha un leader di se stesso. Quindi quando c'è questo concetto all'interno di un team è tutto molto fluido. Ed è importante poi diffonderlo, perché se il leader ne ha consapevolezza, ma il team no, magari ha delle attese. Io su questo ho fatto delle riflessioni in passato e bisogna anche educare il team al fatto che il leader è uno di loro. Non è che è la persona che sta su uno sgabello più alto e quindi perfetto, che non ha bisogno. Ha bisogno di aiuto, ha bisogno di sostegno. E penso quando si crea questa sinergia in un team nasca un qualcosa di splendido. Sì, ma questa è responsabilità del leader, farlo capire. Perché un leader solitamente è una persona che si apre molto e quindi sa ascoltare, non sentire. Una cosa che senti ti entra e ti esce. Quindi la capacità anche di dire guarda oggi io non sono al top, ho bisogno che mi aiuti. E questo è utilissimo. Utilissimo nei team, nelle organizzazioni. Non è che c'è una persona sopra che dà le direttive, perché quella persona che quel giorno non sta bene, e il team cosa fa? Deve essere tutto insieme. Io ho questa visione perché ho visto totalmente tanti spogliatori e tante squadre. Ecco, nella tua visione, te che la leadership te la sei costruita sul campo, nel senso appunto negli spogliatoi, oggi una persona che si trova con delle responsabilità in azienda, è vero che ci sono delle attitudini, delle doti innate nelle persone, ma la leadership si può costruire nel tempo? Io credo di sì. Spesso mi chiedono, ma la leadership ce l'hai quando nasci, oppure la trovi nel tuo percorso di vita? Io guarda, sono uscita di casa che avevo 16 anni, e non so se prima ero una leader o no, se sono diventata una leader. Sicuramente il leader è una persona coraggiosa, perché il saper prendere delle decisioni è prendersi delle responsabilità. una persona che non si espone, che non dà opinioni, che non si mette a servizio degli altri, non potrà mai essere un leader. Quindi secondo me, come in tutte le cose della vita, la leadership è qualcosa che si allena. che si allena. Poi col tempo ti rendi conto se lo sei stato o no. Vabbè, di sicuro. E te insomma sei una bella esperienza, magari tante persone leggono libri, manuali, c'è tanta bibliografia, anche molto interessante, però insomma, fra le parole e i fatti, poi c'è un abisso in mezzo. Mi è capitato, insomma, di incontrare bravissime persone, però appunto a livello teorico, veramente fare dellezio magistralis sulla leadership, però poi nella pratica vedevi che si smentivano. E lì, l'aspetto della coerenza, come lo vedi nella leadership? Ma è fondamentale. Un leader deve essere autentico. Non puoi predicare cose meravigliose se poi non le fai. Io ho fatto un sacco di eventi dove spesso vedevo delle persone che avevano anche delle formule per diventare degli ottimi leader e dentro di me ho detto sarebbe meraviglioso, con quella forma siamo tutti dei leader, saremo un paese pieno di leader se si studiasse quella formula. Il problema è che essere un leader è qualcosa anche di difficile perché sei un punto di riferimento, devi essere un esempio. Ognuno di noi è un leader di se stesso, io credo, no? Solo che a volte qualcuno non lo vuole essere, a volte non ha voglia di esserlo e quindi credo che prima di tutto bisogna essere persone che hanno un minimo di equilibrio, ecco. Cioè un leader che dà direttive e poi scappa, non è un leader, è un folle. Però è bello essere leader, secondo me. Anche a me piace tantissimo. È faticoso. Io credo che le persone in qualche modo, ognuno a modo suo, vogliono lasciare un segno in questo passaggio che è la vita attraverso sui figli, insomma, le persone care e ovviamente nell'ambito del lavoro e anche sul lavoro. La leadership ti dà questa grande occasione perché se te sei in grado di creare un buon clima, delle belle relazioni, io dico sempre, contano molto più quelle dei fatturati. Poi i fatturati ovviamente servono alle aziende per... Però il grande ricordo di un manager è basato su come si è relazionato alle persone, non quanto gli ha dato di bonus o benefit. E quanto ha lasciato il segno nelle persone e quanta emozione e sensi abbia creato. Io ho avuto degli allenatori che erano degli straordinari leader. Io non mi ricordo di come mi abbiano insegnato a palleggiare meglio, ma di quante cose mi avevano insegnato nel gestire magari momenti di difficoltà o comunque momenti critici della partita. Ecco, per me quelli erano straordinari leader perché io porterò per sempre nella mia esperienza di vita. Ecco, sono quelle esperienze memorabili che poi uno si porta dietro. Grazie, è scaduto e volato il tempo insieme. Beh, spero di rivederti presto. Ora finalmente Rock'n'Safe sta tornando dal digital anche l'offline, quindi con l'eventistica. E chissà, magari condivideremo il palco qualche volta perché sicuramente è affascinante ascoltare le tue storie, che sono storie vere. Ecco, quindi non da manuale, ma quello che hai vissuto. Non c'è cosa migliore per apprendere e non solo stimolarsi per essere migliori domani. Grazie Stefano, davvero. È stato un piacere. Sei stata gentilissima e grazie a te. Buona estate. Anche a te. Ciao. Ciao. Beh, io mi sono incantato ad ascoltare Maurizia perché appunto poi, come appena detto, sono le esperienze vere, quelle più significative rispetto al teorema, alle sette regole per essere il buon leader. E sicuramente una persona come Maurizia che ha ottenuto così tanti risultati e che oggi in azienda magari fa ottenere tanti risultati ai manager che si confrontano con lei, beh, il suo operato, il suo contributo, il suo segno in questo pianeta Terra di sicuro si farà ricordare per tantissimo, tantissimo tempo. Grazie Maurizia, davvero. Noi ci vediamo la prossima settimana. Be safe, be rock. Noi ci vediamo la prossima settimana.